Come abbiamo avuto il rapporto con la committenza? Sipraca fiducia tra uno e l'altro, quindi anche i clienti sono venuti con una richiesta specifica e poi noi abbiamo cercato di elaborare un'idea secondo principalmente le loro volontà. Anche l'edificio si distacca abbastanza da quelli che sono i normali canoni di un edificio in Alto Adige o soprattutto in Valle Aurina. Però anche la volontà del cliente di avere un edificio che possiamo quasi definire iconico ha fatto sì che poi questo progetto, anche se appunto differente rispetto dal normale, prendesse vita. Normalmente il rapporto è continuato senza problematiche di sorta fino alla fine e ad oggi i committenti sono ancora molto soddisfatti del progetto e infatti continuano anche a pubblicizzare, continuano ancora i rapporti col nostro studio anche a distanza di vari anni dal suo completamento.